Ciao, sono Paolo Bacci e vi presento questo Oron 87XT, un camper lungo 7,40 per quattro persone face to face letti singoli posteriormente. Cliccate sulla vostra destra in alta che si aprirà la scheda di questo camper dove ci saranno tutte le caratteristiche dell'oggetto, gli optional compresi, le dimensioni, il prezzo di listino e soprattutto il prezzo chiave in mano che vi permetterà di valutarlo. Poi iscrivetevi al canale YouTube e cliccate la campanellina perché sarete sempre aggiornati sui nostri video. Andiamo a vedere il garage. Garage ha due sportelloni grossi uguali sia a destra che a sinistra, qui sotto le dimensioni come vedete ha una grandissima capacità di contenimento quindi ci potete mettere veramente di tutto. Poi andando al suo ingresso una bella porta bella larga, finestra, quattumiera, zanzariera, una maniglia per accedere con più facilità, una bella zona giorno. Qua la, vedete che è la stessa tappezzeria, il tavolo che gira e quindi diventa più grande e in questo modo si chiude. Si chiude anche per poter avere piano d'appoggio e poter stare 1, 2, 3, 4, 5, 6 a fare un po' di conversazione senza l'ingombro centrale. Poi una finestra apribile, la finestra apribile sulla sinistra e un'altra finestra ma fissa luminosa sulla destra. Poi i due pensili sotto il letto e come vedete il face to face. Face to face è una pianta molto più consigliata per le due persone perché il terzo e quarto posto è un po' più complesso a fare che non il fronte marcia. Però il bello del face to face è che ha questa bellissima zona molto ariosa e spaziosa. Poi la cucina, tre fuochi, un bel avello, un piano d'appoggio, il pensile e poi le varie cassettiere. Una, due e poi quest'altro che è il generale 220, un piccolo contenitore. Oltre a questo che è tutto lo spazio sotto la cucina. Poi dall'altra parte frigorifero con congelatore, poi una bella cestella per le bottiglie e poi un altro bel contenitore che in cucina è sempre bene averlo. La parte posteriore. La parte posteriore c'ha questa porta che divide la zona giorno e quindi anche chi dorme nel letto basculante alla zona notte. La zona notte ha questi beletti che ora poi vi faccio vedere come sono grandi. Questo è l'armadio che si apre anche sul lato. Poi cassettiera, una cassettiera due e poi anche questo contenitore che è bello e profondo che qui veramente c'entra tante cose. Dall'altra parte uguale il letto che si alza e si accede, guardate come è grande, laterale. Qui veramente un mega 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 armadio. Poi questo è il cuscino che vi permette di avere la parte dell'allungamento e avere un enorme letto per traversa, perché questo si può dormire o facilmente con due singoli, una a destra e una a sinistra. Questo è più corto, l'altro è più lungo, per cui anche le persone, io sono un metro e ottanta, persone un metro e novanta e qualcosa, c'entrano tranquillamente. Oppure dormendo per traverso è oltre due metri, quindi tranquillamente ci si sta senza problemi. Un bello blu, finestra sinistra e destra. Oltre avere dei bei pensili. Qui le luci con l'USB, quindi avete sempre a disposizione il vostro caricatelefono. Qua giù una bella spalliera proprio da letto di casa. Poi la parte doccia. Parte doccia, allora questo campe è un campe anche da famiglia, che di dietro è possibile un po' usarlo in tutte le maniere, due, quattro. Quindi questo è una doccia dove si può tranquillamente andare anche a lavare il bambino. e qua, come vedete, è facile. Poi vedete come muovo bene i vapori, ma così vanno sul fuori. Poi il bagno, qua il water, finestra, pensile sopra, contenitore sotto e pensile sopra. Ora, il lavello, molto facile. Letto basculante. No, niente. Il letto basculante, eccomi qua. Sono un metro e ottanta, ci sto bene. Qui due persone adulte ci stanno un po' strettine, ma ci si dorme tranquillamente. Due bambini alla grande. Poi c'è la protezione sia nella parte posteriore che nella parte anteriore. E c'è anche un bello scambio d'aria. Quindi, sicuramente se vi è piaciuto, siete in due o in quattro o ci avete nipoti, questo è un bellissimo campe con un ottimo prezzo. Come sapete, il nostro motto è Libertà di Scelta perché avete la possibilità di vedere tantissimi campe di varie misure e abitabilità. Poi la nostra consulenza cercherà di aiutarvi per poter acquistare il camper più adatto alle vostre vacanze. Come sempre, agli ottimi prezzi e servizi caravambacci. Ciao!